Allora questa è una tecnica di Kung Fu Cioè questa tecnica serve E la morsa Del serpente Che va sotto la carotide E serve per bloccare il respiro Molti non lo sanno Allora questa è solo una tecnica Ma ne ha miliardi di tecniche il Kung Fu Guardate che il Kung Fu è una delle arti marziali Più precise e più studiate al mondo Ogni tecnica Mira a qualcosa di serio E di concreto Molti non lo sanno Perché la gente è ignorante Che volete sapere Cioè per quello È un'arte marziale molto complessa È la più antica Bruce Lee l'ha modificata Fu criticato e condannato Però è riuscito a farsi un suo Kung Fu Perché ha portato delle modifiche Mentre le scuole tradizionali Non hanno voluto questo Non hanno accettato che Bruce Lee Riusciva ad andare oltre Perché è arrivato ad avere una sua interpretazione Che andava oltre Che era diversa dal Kung Fu tradizionale Quello che viene insegnato in tutte le scuole di Kung Fu In tutto il mondo E che parte dalla Cina Che è un'arte marziale di Kung Fu